omicidio a tavuglia ucciso a coltellate 30 settembre albanese residente a riccione dopo l'evacuazione della palazzina di borgo santa maria le famiglie sgomberate trovano alloggio da parenti le mucillagini intasano il porto pescatori chiedono aiuto a comune e regione partito il roff il festival presenta già la sua 46esima edizione capitale al quadrato la riserva del furlo ospita pesero 20 24 nella settimana di ferragosto buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di rossini news telegiornale di giovedì 8 agosto che apriamo con un grave fatto di cronaca un omicidio nel nostro territorio avvenuto la notte scorsa nella tarda serata di mercoledì a tavuglia in una via centralissima di tavuglia ad essere ucciso un 37enne di origine albanese residente a riccione che ha perso la vita in seguito ad una coltellata vediamo tutti i dettagli nel nostro primo servizio una lite degenera nel sangue nelle strade di tavuglia dove ieri sera è stato ucciso con una coltellata al cuore dritta di drizzi 37 anni albanese residente a riccione l'omicidio si è consumato ieri attorno alle 22 davanti ad una palazzina di via san giovanni angolo via nenni qui dritta di drizzi si sarebbe recato ieri sera assieme a due connazionali per reclamare un credito di 5.000 euro da un'altra famiglia albanese residente appunto nell'abitazione tavugliese da circa un anno credito vantato per dei presunti lavori effettuati si sarebbe dunque creata una violenta collutazione fra sei persone armate di bastoni e spranghe e secondo la dinamica in fase di ricostruzione uno dei residenti sarebbe stato colpito alla testa e qualcuno avrebbe reagito con un coltello pugnalando i drizzi tre coltellate una la milza un al torace e una fatale al cuore le tracce di sangue sull'asfalto ricordano la corsa disperata all'ospedale di cattolica dove drizzi è morto per sciocche morragico indagano sull'accaduto i carabinieri di pesero e riccione in un'operazione coordinata dalla procura di pesero si cerca il colpevole fra le persone coinvolte nell'episodio alcune sarebbero gravate da precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio al momento non è stato ancora formalizzato nessun arresto intanto altre tre persone coinvolte nella rissa sono in ospedale dopo aver riportato ferite giudicate guaribili fino a 40 giorni i carabinieri stanno procedendo per le ipotesi di reato di omicidio tentato omicidio e lesioni gravi carabinieri che questa mattina hanno dovuto presidiare l'obitorio di riccione di fronte ad una massa di parenti e amici di drizzi a corsi in vano per vedere la salma che resta oggetto di indagine dovranno stare fuori dalle proprie abitazioni almeno fino al 10 di settembre questo il destino delle sette famiglie residenti ai civici 2 4 di via monte amiata nel quartiere pesarese di borgo santa maria che come vi abbiamo documentato ieri hanno subito l'ordinanza di sgombero da parte del comune di pesero in seguito ai problemi di staticità denotati dallo stabile dopo le verifiche dei vigili del fuoco il comune assieme alla protezione civile ha messo a disposizione all'allestimento della palestra di borgo santa maria come luogo di accoglienza di urna e notturna delle famiglie evacuate ma al momento tutte hanno trovato sistemazione presso parenti o conoscenti nel consiglio comunale di oggi è stata approvata all'unanimità la delibera per cambio di destinazione d'uso dell'area di torraccia di via degli abeti che dunque diventerà il nuovo asilo nido da 90 posti con un finanziamento di 2 milioni e 100 mila euro di fondi pnr una decisione andata al vaglio delle consiglio comunale dopo il precedente confronto nei giorni scorsi con diocesi e curia che avevano le intenzioni di costruire in quell'area una chiesa come previsto dalla destinazione d'uso ma si è trovato un compromesso che concili entrambe le esigenze ancora una giornata estiva caratterizzata da mucillagini nel litorale adriatico una cartolina particolarmente impressionante quella che è arrivata oggi dal porto di pesaro dove tra l'altro i pescatori chiedono ora il sostegno di comune e regione per un'estate estremamente penalizzante un porto che affonda nella melma questa la cartolina di oggi 8 agosto dello scalo pesarese avviluppato nelle mucillagini che stanno condizionando quest'estate un effetto ottico particolare estremizzato nel luogo in cui le acque faticano a circolare ma che enfatizza un fenomeno che sta facendo doppicare il turismo balneare di questo 2024 e che soprattutto mette in gravi difficoltà il comparto della pesca sia strascico che d'altura proprio questa mattina l'assessora francesca franquellucci che detiene la delega alla pesca ha incontrato una rappresentanza delle cooperative di pescatori comune che ha fatto da cassa di risonanza alla regione ente competente sulla questione in merito alle criticità che gravano sui 15 pescherecci e sulle tre vongolare presenti a pesaro che coinvolgono circa 50 famiglie impegnate nel mercato ittico una filiera che poi si allarga al commercio alla ristorazione e che ulteriormente penalizzata dal fermo pesca che fino al 31 ottobre consentirà l'uscita in mare solo alle piccole barche e solo oltre le 6 miglia si confida dunque in un sostegno di ristori derivati dai prossimi bandi regionali di settembre mentre per quel che riguarda le proprie competenze il comune ha raccolto oggi alcune idee che si proverà a tradurre in progetti concreti e duraturi come quello dell'installazione di un impianto di fornitura del ghiaccio che oggi a pesaro manca a differenza di fano cattolica si terrà domani alle 16 nella chiesa pesarese di sant'agostino il funerale di massimo sierra il presidente dell'ail pesaro venuto a mancare improvvisamente lunedì in seguito ad un infarto nella propria abitazione sierra aveva 67 anni ed era una persona estremamente stimata in città per il suo infaticabile impegno a sostegno del prossimo dei malati e della ricerca ieri l'apertura ufficiale delle rossini opera festival con bianca e falliero nel ritrovato auditorium scavolini questa sera l'equivoco stravagante al teatro rossini e domani la terza opera ermione alla vitri frigo arena questo il piano di viaggio di un 45esimo roff appena partito ma che guarda già molto avanti al 46esimo con l'edizione 2025 che è stata annunciata proprio questa mattina all'indomani della prima di bianca e falliero all'auditorium scavolini che inaugurato il roff 2024 il festival svela già il suo programma 2025 un palinsesto illustrato questa mattina durante il secondo roff talk nella sala della repubblica sarà un 46esimo festival che si terrà dal 10 al 22 agosto e presenterà tre titoli operistici con due nuove produzioni una ripresa inaugurerà il festival il 10 agosto 2025 una nuova produzione di zelmira diretta da giacomo sagripanti dopo un anno di festival extra large torniamo al formato tradizionale quindi tre titoli d'opera principale più tanti concerti un evento finale per i tradizionali 23 appuntamenti cui si aggiungono i concerti dal museo rossini e gli ormai tradizionali salon rossini due nuove produzioni italiana in algeri e zelmira e una ripresa e il turco il turco in italia la ripresa davide livermore che aveva riscosso tanto successo alcuni anni fa qua a pesera nuove produzioni l'italiana in algeri con rosetta cucchi che al terzo titolo dal nostro festival dopo adina e otello quindi dopo una farsa in opera seria si sperimenta anche nell'opera nell'opera comica e zelmira con un nuovo debutto alla regia di calisto bieco che debutta al festival sul podio avremo diego ceretta nel turco in italia giacomo sagripanti in zelmira e dimitri corciac nel doppio ruolo perché sarà cantante nel concerto nel concerto conclusivo e direttore d'orchestra in italiana in algeri presente e futuro delle donne in politica questo è stato l'oggetto di un convegno tenutosi ieri sera al mississippi di gabice mare alla presenza di tante sindache del territorio si trattano ovviamente i temi delle donne in politica ovvero quella che è alla vista di alcuni ancora oggi la difficoltà di poter conciliare una vita femminile con una l'attività politica che richiede veramente grandissimo tempo oggi abbiamo tantissime sindache tutte grandissime donne che riescono invece a conciliare quello che è la la loro attività politica amministrativa con quella anche di cure di attenzione per la famiglia per il lavoro per quella che sono tutte le varie le varie attività a dimostrazione di quanto sia oggi superato il vecchio pensiero che la donna deve deve stare a casa a cucinare e non possa invece fare la carriera sempre di più si vedono anche donne che ricoprono dei ruoli importanti a livello dirigenziale nelle aziende ma la disparità è ancora tanta e il lavoro da fare non è tanto è tantissimo molte volte diciamo che ci rendiamo conto anche quando so quando siamo all'interno delle delle decisioni quant'altro ancora diciamo che è un mondo che parla molto al maschile e che sorride troppo spesso al femminile noi non vogliamo sorrisi ma vogliamo la possibilità di esprimerci giustamente con tutte le pare opportunità possibili non credo che dobbiamo per quanto per tanti anni e per diverso tempo è stato un contributo sottovalutato andare a sostituirci al maschile piuttosto un connubio che nella complessità tutti insieme può dare delle risposte migliori siamo ancora poche no anzi da ultimamente se guardiamo a livello provinciale le donne sindache sono leggermente diminuite nel senso che hanno avuto il sopravvento i maschi però è un ruolo dove le donne comunque ci mettono la passione la tenacia sicuramente anche con un punto di vista diverso da quelli degli uomini ma non diverso per per principio diciamo diverso perché siamo proprio diverse perché abbiamo delle sensibilità diverse voglio pensare anche che le persone cominciano a fidarsi anche di avere come ruolo in un comune come insomma amministratrici donne questo per me è veramente una cosa importante ecco ho fatto un po questa riflessione credo che se noi ci guardiamo intorno ecco tutti cominciano a fidarsi anche gli uomini delle donne e mentre attualmente in corso la settimana da capitale della cultura delle comune di cantiano quella di ferragosto che inizierà lunedì 12 sarà invece una settimana del progetto pesaro 2024 non dedicata a un comune specifico ma a un territorio che abbraccia più comuni quello della riserva naturale del furlo dal 12 al 18 agosto sarà la riserva naturale statale gola del furlo la protagonista della nuova tappa del progetto 50 per 50 capitale al quadrato di pesaro 2024 un'eccezione alla logica dei 50 comuni derogata in favore di un luogo naturalistico che un unicum abbracciato da cinque comuni provinciali è un elemento di originalità ma quando abbiamo iniziato a costruire il programma dei 50 settimane per 50 comuni ci siamo resi conto di due cose la prima è che il furlo era naturalmente anche per sua connotazione geografica e ricadendo su più comuni diciamo oggetto del programma di diversi di diversi comuni e quindi Ferminiano, Palagna e altri hanno trattato a Natura Fossombrone naturalmente il tema e il luogo del furlo nella propria programmazione e l'altra parte che nella chiamata che abbiamo fatto alle istituzioni della nostra provincia il programma e la riserva del furlo avevano risposto con una programmazione all'altezza di quella di un comune di un ente comunale specifico che stava lavorando quindi abbiamo detto cerchiamo di farci spazio nella programmazione annuale perché merita un focus quindi non solo più comuni che confluiscono sulla programmazione dell'area del furlo ma la stessa riserva del furlo che si riallarga a portare le proprie istanze dal punto di vista naturalistico, ambientale, culturale, presaggistico, storico e quindi diciamo questo è stato un po' la scintilla che ci ha fatto pensare anche di dedicare uno dei momenti più caldi dell'estate, luoghi anche più accoglienti e in alcuni casi anche più freschi e anche in uno dei momenti più vivi dell'anno rispetto all'attività della riserva e quindi è venuta fuori una settimana veramente originale e che penso impazzigerà molto il programma della capitale della cultura e soprattutto il senso della natura della cultura in un luogo che già di per sé compreso il bacino e la diga tiene insieme il tema di sostenibilità patrimonio e tecnica. Il programma dal titolo territorio di emozioni i paesaggi della gola del furlo spazierà dall'apertura straordinaria della diga all'incontro con i birder del furlo dall'escursionismo all'apicoltura fino alle specificità culturali del territorio come quella della tradizione degli scalpellini. Sono rimaste alcune sul territorio come attività artigianali e imprenditoriali ma la vera l'attività dello scalpellino come artigiano e scultore è andata persa. Abbiamo ritenuto importante in questa occasione, avendo conosciuto gli ultimi scalpellini del furlo, raccogliere le loro emozioni, i ricordi per immortalarli anche in alcuni video che abbiamo fatto e attraverso i loro ricordi individuare anche sul territorio le vecchie cave che la natura in qualche modo si è riappropriata, rimarginando quelle poche ferite che avevano creato, ma con attenzione del lavoro di allora. E concludiamo con alcune notizie di sport. La banca di Pesaro, credito cooperativo storica, realtà legata al territorio che da tanti anni condivide la passione per la pallacanestro, anche in questa stagione sarà la official bank della VL. Un patto dunque rinnovato tra la società del presidente biancorosso Andrea Valli, del presidente del consorzio Pesaro Basket Franco Arceci e dei vertici di banca di Pesaro Massimo Tonucci e Paolo Benedetti. Dalla VL alla Vispesero è infatti iniziata oggi la campagna di abbonamenti per la VISA al campionato di Serie C 2024-2025. Come vedete è iniziata con una ressa ai botteghini per la promozione della società che ha fornito prezzi promozionali ai primi 200 vecchi abbonati che sottoscrivono la tessera così come a 200 nuovi abbonati. Una promozione fortemente contestata dalla curva già nell'amichevole di sabato scorso con il Fossombrone è ribadita oggi dai gruppi Pesaro Ultras 1898 e Gioventù Pesaro che attraverso un comunicato hanno annunciato che non acquisteranno abbonamenti a prezzo ridotto non aderendo ad una campagna di tesseramento che non ha mostrato rispetto verso i tifosi che seguono la VIS da sempre. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordo il nostro appuntamento con la prima serata alle 21.20 di questo giovedì. Vi mostreremo le belle immagini di auto d'epoca che hanno follato la palla di pomodoro lo scorso weekend nella quinta edizione di Epoca by Night. E poi come sempre vi ricordo l'appuntamento fisso del mattino con Buongiorno Rossini. Vi aspetto domattina in diretta alle 7.20 con la consueta rassegna stampa dei quotidiani locali. Si conclude invece qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.